Allora, lo capisco, lo capisco, purtroppo l'attesa è pesante, è pesante sempre, è pesante per me che vi sto aspettando, siamo in 5, possiamo anche iniziare, volendo non è un problema, mi sono solamente preso un po' di carta e penna per qualche appunto che può succedere per quanto riguarda la diretta. Allora, come stavo dicendo, questa diretta innanzitutto nasce per dare un servizio per tutti coloro che ci seguono, sia attraverso quelli che sono attraverso la pagina FAN, quindi la pagina di Facebook dove sta partendo questa diretta e soprattutto per dare delle indicazioni di come oggi, diciamo, attraverso questi mezzi possiamo renderli utili e quindi in questo caso, perché no, fare anche della consulenza per dare delle idee di come poter arredare il vostro ambiente nel caso in cui, perché ci troviamo a vendere tendaggi e siamo in un settore di tendaggi e tessuti a metraggio, quindi qui vi farò vedere alcuni tendaggi che, ripeto, non è un discorso di televendita, perché da questo ovviamente vi racconterò e vi dirò come, diciamo, procedere nell'eventuale, eventualmente ti dovrebbe servire qualche tendo, qualche tessuto che ti farò magari vedere o che potrai comunque qui individuare, quindi inutile che, giustamente, sai Salvo mi piace quella, ah, scusa, mi presento, mi chiamo Salvatore Maria Paolo, va bene, Salvatore, e allora dici, ciao Salvo, mi piace quella tenda, ma quando è al metro? Per carità, per non incasinarci ovviamente e trattare il tema per quello che è, quindi troverete, e così per essere che, diciamo, tutti coloro che vogliono in un certo senso conoscere e vedere da vicino tutti i tessuti e i tendaggi che trattiamo qui nel nostro showroom. Ci troviamo a Scordia, in piazza per Santi Mattarella, a Catania, in provincia di Catania, siamo in Sicilia, una delle regioni italiane, e quindi, come vi stavo dicendo, se nel corso della puntata, chiamiamola così, vi attenzione a qualche tessuto, qualche colore, qualcosa, non vi affrettate perché io farò comunque solo una breve dimostrazione di qualche tessuto, così tanto per dare un'idea dei prodotti che trattiamo, di quello che possiamo offrire, di quello che troverete dove, collegandovi proprio al sito. Quindi, collegandovi a sltessuti.it, www.sltessuti.it, lì vi troverete sul nostro sito, quindi dove sono presenti tutte le nostre proposte, tutti i tessuti a metraggio, e attraverso il nostro sito, quindi collegandosi dal vostro smartphone, potete addirittura contattare i nostri esperti, quindi attraverso WhatsApp, e fare lì delle domande, avere un servizio, quindi una consulenza, delle informazioni, essere eseguita durante la scelta della tua tenda, quindi se hai un dubbio su determinati colori, perché ti ritrovi questi tonali da tua a casa, ecco, noi questo lavoro, già principalmente lo facciamo da vent'anni qui a Scordia, radicati sul territorio, e da diversi anni adesso ci siamo approcciati anche sul web, e abbiamo inserito questa stessa filosofia, quindi di proporre sia il tessuto a metraggio, ma anche quello che è il confezionamento, quindi su misura, e anche questa sfida da un paio di anni, che è partita anche sul web, abbiamo già redato, quindi potrete notarlo sia attraverso le recensioni che abbiamo ricevuto, e nelle foto che trovi nella nostra pagina, quindi per fare una distinzione, nelle foto che trovi nella nostra pagina, sono tutte foto che vengono ricevute dai nostri clienti, quindi che ci inviano, dove abbiamo creato il lavoro, che sia il cliente di Roma, di Milano, Dolino, ci viene comunque servito nella stessa maniera, con la stessa filosofia, che il cliente verrebbe qui nel nostro showroom. Attraverso il web addirittura è molto più facile, aiuta anche chi, nel caso in cui ti trovi nella zona, quindi aver visto il nostro sito, ti permette di conoscere già in anticipo i nostri prodotti, e poter magari poi successivamente venire qua e avere una consulenza direttamente face to face, quindi faccia a faccia, al vecchio modo, la vendita al banco, per, e comunque, attraverso questa diretta, quindi ci possiamo allacciare, collegare, a quello che è comunque una vendita, che poi si prospetta in quella che è nel web, quindi una vendita più composta, ordinata, quindi seguita, seria, quindi senza premura, quindi troverai le offerte, quindi troverai trattato, quindi troverai un sito comunque pensato per come il cliente verrebbe qui sul nostro showroom. Quindi adesso, diciamo che ti ho fatto questa breve premessa che ti aiuta, in un certo senso, a capire che se cerchi dei tentaggi al metraggio, oggi online, è possibile. È possibile perché, come ti stavo già dicendo, lo facciamo già da due anni, con ottimi risultati, i clienti sono molto soddisfatti, quindi la nostra esperienza, adesso trasmessa attraverso il web, vogliamo capire se queste dirette aiutano in qualche modo a coinvolgere, ecco, quello che è il cliente, quindi a poter vedere effettivamente che dietro ci sono delle persone, perché magari il web, provo un pochettino oggi a farsare un po' la realtà, quindi a non capire se e se le tessute esiste fisicamente, se c'è dietro comunque ciò che uno magari si aspetta o no. Quindi ora, qui, come ti stavo dicendo, ti faccio vedere qualche tessuto che ci troviamo qui nel nostro showroom e come questo tessuto, per esempio, qua colorato, sicuramente il nome di Jafar, adesso non mi ricordo proprio tutti i nomi, completi dei tessuti, però ne dico qualcuno così, o quest'altro tessuto qua che si chiama Clodi, colore verde ottaneo, o che ne so, potresti anche vedere qualche tessuto in grigio, quindi qui siamo sull'articolo 1000, poi ci sono anche altri tessuti sempre che sono qui alle spalle di questi tessuti qua, che troverai sempre nel sito, e questi tessuti, e poi tranquillamente in ogni tessuto potrai vedere quello che è la morbidezza del tessuto, come si presenta, il filtraggio attraverso la mano, e con il servizio Whatsapp, ecco che lì proprio effettivamente ci avviciniamo sempre di più al cliente, quindi per dare un servizio più serio, quindi più ordinato, più completo, e che attraverso Whatsapp può richiedere anche qualche videoclip, così come ogni giorno già clienti che attraverso il sito ci contattano, ci contattano da tutta Italia, quindi questo ci fa piacere, perché è un servizio che stiamo affrontando, e che adesso con queste dirette vogliamo prendere più da vicino, e quindi poter dare un servizio più completo a tutti coloro che si avvicinano, che comunque danno uno sguardo alle nostre proposte, perché l'idea è ovviamente presentarvi ciò che noi abbiamo, adesso ci spostiamo con la nostra telecamera, ecco magari non mi vedete più ora a me giustamente, perché diamo spazio a quelli che sono i tessuti, un attimo vado a girare, ecco qua un attimo vediamo se il dito mi funziona, aspetta non mi, ok perfetto, e allora qui andiamo a vedere per esempio tessuti che possono andare, vedi tessuti effetto tipo lino, tipo lino perché sembrano che sono in lino, sono prodotti in misto, quindi sintetico particolarmente, quindi non neanche misto, lavorati, ecco qua, vedi ottimo, ottima lavorazione, parliamo ovviamente di prodotti che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo, quindi non starò qui ovviamente a citare tutti i prezzi, per ovvia ragione non me li ricordo, però li troverete comunque specificati nel nostro sito, quindi andiamo avanti così, per avere un'idea di quello che in un certo senso potete trovare, ecco vedi, puoi trovare un tessuto come questo, puoi trovare anche un tessuto così colorato, a fantasia, puoi trovare un tessuto che sia sull'effetto tipo ricamato, vedi col grigio, guarda quest'altro com'è particolare, quindi molto morbido, questo è un devorea a rilievo, molto raffinato, fatto su base, tipo seta, tipo seta perché al tatto, come lo tocchi, sembra come se tocchi la seta, parliamo di un prodotto che essendo misto, facilmente lavabile, poi vedi qua, qua abbiamo tutti quelli che sono i fasciati, noi li chiamiamo quindi i rigati, che possono essersi orizzontali, che verticali, ne apriamo qualcuna così, che comunque, ti ripeto, vedrai sul nostro sito, quindi puoi cliccare su sltessuti.it, ok, e lì ti fai un'idea, se c'è qualche tessuto che potrebbe in ogni caso interessarti e se preferisci avere una consulenza puoi contattarci attraverso Whatsapp o avvicinare di persone nel nostro showroom. Ecco qua, guarda, vedi qua sul tavolo abbiamo anche altri tessuti, sempre effettolino, si sta usando tantissimo questo gioco di doppia balza, come vedi, abbiamo sia la tonalità canapa, quindi lo stile shabby, uno degli stili che attualmente, anche sul nostro sito, ecco mi sono dimenticato questa cosa qua, puoi trovare sul nostro blog, quindi attraverso il nostro sito nel blog, troverai degli articoli inerenti a quelli che sono, diciamo, le particolarità dei prodotti, quindi come lo shabby chic, quindi c'è un articolo dedicato allo stile shabby chic, l'articolo dedicato anche al tessuto devore e altri articoli che troverai scritti da me personalmente, quindi che mi dedico ovviamente questo per dare un servizio completo al cliente, quindi poter offrire quando più consigli, quando si, diciamo, si trova a, in un certo senso, arredare il proprio ambiente, magari oggi la difficoltà è trovare chi ti consiglia al meglio, quindi la SL tessuti si presenta per darti un servizio serio, equilibrato, ecco, vedi, questi sono i tessuti che potrai, diciamo, andare proprio a vedere, se verrai qui nel nostro showroom li potrai anche toccare, ecco qua, io così mi sto facendo una passeggiatina, perché questa diretta, l'utilità di questa diretta è non fine alla vendita in se stessa, quindi cruda e senza, come si dice, effettivamente un rapporto serio, quello che noi dedichiamo da quasi vent'anni qui a Scordia, quindi con il nostro cliente, che sia esso da Torino, Milano o da Lentini o Catania, la differenza non cambia, in ogni caso deve comunque ricevere un trattamento ed essere ascoltato affinché si possa trovare delle soluzioni inerenti alla propria richiesta personale. Ecco qua, vedi, qui stiamo così girando nel nostro showroom, tanto per avere così un'idea, questi sono alcuni articoli di tente confezionate, abbiamo pochissimo, quindi non è proprio la nostra punta di diamante, abbiamo qualcosina, proprio perché è particolare, come noti, ecco qua, vedi, bene, 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 ecco qua ci sono altri dentaggi sempre tessuti che puoi vedere sul nostro sito, perché quindi puoi vedere, come ti dicevo, anche il prezzo, puoi vedere tutti i prodotti che sono in promozione, che farti un'idea di tutti gli articoli che ci sono, come arredare, consigli, sempre nel nostro blog troverai anche dei consigli pratici per poter arredare, quindi non sbagliare, comunque poi il contatto con i nostri esperti su WhatsApp ti aiuterà tantissimo a poter procedere senza tante difficoltà e diciamo che questo ci permette in un qualche modo di essere vicino al cliente, il cliente ovviamente che il nostro obiettivo è lasciarlo soddisfatto di un servizio, quindi offrirgli una consulenza gratuita, gratuita ai fini ovviamente di migliorare quello che è l'ambiente e renderlo quanto più comodo alle esigenze di ogni cliente, perché poi ognuno di noi ovviamente ha le proprie esigenze, ha le proprie difficoltà che riscontriamo nei vari ambienti.